ragazzi volevo dirvi di non schippare fino alla fine ma dirmi cosa ne pensavate di questo genere di video se vi può piacere lo posso portare oppure portarvi anche il contrario di quel video che farò adesso è successo che praticamente dopo una leggera accelerata non so come ma mi sa che era già mezzo rotto l'attacco si è staccato e la gopro è caduta e dopo due tre macchine che l'hanno schivata una l'ha tirata sotto forse anche due non lo so quindi adesso non so come funziona la gopro spero funzioni perché se no non posso più portarvi video oppure ve li posso portare con l'altra cam ma non ha integrato il microfono quindi se qualcuno conosce un microfono con l'attacco usb non come quello da gopro ma più sottile forse con le gopro nuove tipo la session se non sbaglio la session dovrebbe avere quell'attacco lì comunque sto tenendo sul casco perché ho il microfono dentro se no l'avrei tolto quindi se qualcuno conosce un adattatore per quel tipo di presa usb che monta quella videocamera che ho fatto vedere in due video fa se non sbaglio due perché se no credo i video non ci saranno più niente dopo la fine di questa chiacchierata vi lascio al video bye bye ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video prima che inizia tutto il video in sé volevo informarvi che la moto è ancora in vendita quindi lascio link dell'annuncio in descrizione se siete interessati e ora iniziamo col video cioè dieci cose che amo della mia moto ci sta questo paesaggio parto con la premessa che non mi sono studiato nulla quello che dirò saranno le prime cose che mi amo pensando a questa moto se mi può piacere l'idea del video se mi piace l'idea video posso fare lo stesso con dieci cose che odio sulla mia moto e chi lo sa se sarà con questa o con la prossima dipende tutto da quando me l'acquistano siccome il ragazzo che doveva venire a prendermela sabato scorso non si è presentato e ad un certo punto ha deciso di darmi buca quindi è ancora disponibile la prima cosa che amo quando penso al mio moto verde sono lì le strisce perché tra questi qua è l'unica usaberg omologata a motare in italia quindi è una moto unica che non ha nessun altro tranne io che bel tt carino non male e questa cosa mi piace veramente tanto ogni volta che ci penso che tramonto ragazzi spettacolare siamo arrivati al punto 6 su cosa amo della mia moto è il fatto che ha spese di manutenzione veramente bassissime di manutenzione non ha praticamente nulla tranne il cambio dell'olio ogni tot poi come avete visto ho fatto il cambio del pistone che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono Non so se ancora Funziona ma Mi hanno appena finito di schiacciare la GoPro In quel punto Si è rotto l'attacco dal casco non so come E si è staccata la GoPro dal case E ora si è rotta così Spero funzioni perché se no È la fine dei miei video su YouTube E niente per adesso Non ho più la GoPro Se non funziona non so più come portarvi video E buona Questa roba mi fa incazzare di brutto E molto probabilmente Per un po' di tempo non potrò portarvi video Siccome ho spese da fare Migliori che comprarmi una GoPro Mi spiace Quindi il video finisce così Ci rivediamo nel prossimo Grazie a tutti